Nuovo Vescovo di Roma Lo hanno chiamato di un paese lontano Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra lingua italiana Se mi sbaglio Se mi sbaglio mi corrigerete 8 aprile 2005 I fedeli in una sola voce Gridano santo subito Oggi 27 aprile 2014 Santo Giovanni Paolo II L'invocazione è stata accorta Ci sono storie Che non finiscono mai Perché il cuore sa Quello che le parole Non potrebbero mai dire Che ti sento più Che ti sento più Grazie a tutti Grazie a tutti.